Benvenuti ad una nuova edizione di Calabria News 24 in forma. Confiscati dalla DIA di Reggio Calabria, beni per un valore di 15 milioni di euro a due presunti esponenti della Ndrangheta in esecuzione di decreti emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Le persone interessate dai provvedimenti sono Nicola Romano di 68 anni, attualmente detenuto dopo essere stato arrestato nel 2012 nell'ambito dell'operazione Saggezza e condannato a 20 anni e 10 mesi di reclusione. E Domenico Barbieri di 59 anni, arrestato nel 2010 nell'operazione Meta e condannato a 5 anni e 10 mesi. A Gioia Tauro scoperta una truffa ai danni della Comunità Europea per un valore di 240 mila euro. Avrebbe indebitamente percepito fra il 2007 ed il 2015 circa 240 mila euro di contributi erogati dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola. A scoprirlo le fiamme gialle di Gioia Tauro su direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, che hanno portato a termine delle indagini sul conto di una persona della piana di Gioia Tauro, che proprio per ottenere i contributi ha presentato una serie di documenti attestanti la conduzione di una quindicina di particelle di terreno, per un totale di circa 14 ettari. Tra i documenti, un contratto di affitto falso, sia perché sottoscritto con una controparte che è risultata deceduta da tempo, sia perché attestante situazioni non veritiere, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio anch'essa avente contenuto falso. In tal modo, l'uomo è riuscito così ad indurre in errore gli enti erogatori, ottenendo indebitamente contributi comunitari maggiori di quelli spettanti per circa 240 mila euro, una parte dei quali materialmente riscossa ed una parte utilizzata per far fronte a debiti di natura previdenziale maturati con l'Inps. Replica il consulente della Iope dopo le proteste dei dipendenti per il mancato pagamento di alcune mensilità. La società Iope, che gestisce il call center di rende con commessa Enel Energia, dopo le proteste dei dipendenti per il mancato pagamento di tre mensilità, è intervenuta per chiarire la vicenda tramite il dottor Eduard Santacroce, consulente esterno della Iope. Il pagamento delle mensilità non riguarda tutti gli operatori, 130 operatori, bensì circa un terzo, che a causa di un pignoramento che c'è stato a una sigla sindacale per dei lavoratori in uscita, ha determinato un ritardo del pagamento. Il pagamento comunque verrà garantito dentro il 30 di dicembre. L'azienda è dispiaciuta per questi eventi, che sicuramente hanno creato disagi ai propri operatori, e per questo in un certo modo vuole scusarsi anche con questa dichiarazione da parte mia. Dall'altra vuole però riportare che c'è un gruppo di persone valide, capaci, che vuole rilanciare questa realtà e soprattutto che nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato la validità del gruppo e dei risultati conseguiti. I dipendenti del call center rendese, va ricordato che già da qualche tempo, hanno un contratto di solidarietà che altri non è che un ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori per evitare licenziamenti, in alcuni casi previsti dalla legge, dove il 60% dello stipendio viene erogato dall'Inps, mentre il 40% dalla società. Per quanto riguarda invece il discorso della solidarietà, l'azienda si è mossa tempestivamente, così come in accordo con le sigle sindacali, per fare in modo che tempestivamente venissero fornite tutti i dati e le informazioni all'Inps. Purtroppo i tempi o le modalità di pagamento non sono nelle nostre possibilità, né tantomeno abbiamo la possibilità di surrogarci questo pagamento. Per cui al momento la Iope è in regola con le comunicazioni ufficiali e al 31-12 cesserà questo stato di solidarietà. Se poi vorranno essere innovate, l'azienda dà la disponibilità, ricordando come questo strumento promosso e sostenuto dai sindacati è stata una soluzione per evitare un licenziamento che avrebbe dovuto colpire altrimenti l'azienda. La quale dal mese di maggio, purtroppo a seguito di indicazioni del mercato, ha ricevuto un calo di telefonate da parte del canale di Enel. Quindi diciamo che era una soluzione valida, sostenibile per l'azienda nella speranza che questo flusso di chiamate potesse ritornare ai suoi volumi consoni. Resta al suo posto il presidente del Consiglio di Taurianova, Fausto Siclari. Auspichiamo che ci sia un sussulto di coscienza tra i consiglieri di maggioranza, ma alla fine quel sussulto a cui si richiamava Roy Biasi, leader degli innamorati di Taurianova, non c'è stato, perché la mozione di sfiducia presentata contro il presidente del Consiglio Comunale, Fausto Siclari, si è infranta sul realismo dei numeri. Occorrevano i due terzi dei voti, undici per l'esattezza per sfiduciare Siclari, e la minoranza ne ha raccolti sette contro gli otto della maggioranza e una scheda bianca. Mozione respinta con Siclari, che brinda al nuovo anno restando al suo posto. La mozione era il primo punto dell'ordine del giorno, sui restanti otto, ma prima di arrivare al voto tanto atteso si è dovuti aspettare quasi cinque ore riempite da battibecchi e discussioni animate tra maggioranza e opposizione. Un botte e risposta infinito, che non sembrava finire mai, dove il punto più saliente della seduta, ovvero la mozione di revoca Siclari, veniva allontanata e si divagava su altre questioni con accuse e attacchi reciproci tra i vari consiglieri che prendevano la parola. Tra qualche precisazione e qualche affondo di Fioretto, anche tra i banchi della minoranza si è rivisto un inedito duello, con un rocco sposato che ha voluto puntualizzare il suo ruolo. La mia, ha affermato il consigliere, non sarà mai una minoranza distruttiva, perché così tradirei gli elettori che mi hanno dato fiducia. La mia condotta politica, ha giunto, è votata solo al bene comune della comunità e mai ad interessi personali. È un biasi invece che lo ha invitato a spostarsi sui banchi della maggioranza per coerenza dopo l'ultimo voto a favore della giunta Scionti sulle variazioni di bilancio. Un botte e risposta che è continuata ancora tra i due e ha visto inserirsi il duello infinito tra Stella Morabito e il sindaco e Siclari e tra Biasi e il suo ex Delfino. Con il primo che nel leggere le motivazioni della sfiducia ha rimarcato quali sono stati i fattori che hanno portato il gruppo a formulare la mozione elencando pure le presunte somme indebitamente percepite da Siclari nella qualità di ex assessore della giunta Biasi. E ora ci spostiamo a Cosenza dove il CONI ha celebrato un anno di attività dedicate ovviamente allo sport. Un anno di sport è una manifestazione che si è svolta presso il Point CONI di Cosenza voluta dalla delegata CONI della provincia di Cosenza Francesca Stancati che ha premiato gli atleti e le società che hanno ottenuto risultati significativi nell'anno che sta per concludersi. Oggi abbiamo una manifestazione di chiusura dell'anno sportivo della provincia di Cosenza sono contenta perché è una manifestazione molto partecipata, tende a premiare gli atleti tecnici e le società che su segnalazione delle federazioni, degli enti di promozione, dell'associazione Benemerite ci hanno segnalato appunto chi si è particolarmente distinto in questo anno sportivo 2016 e noi abbiamo la grande partecipazione a questa manifestazione perché in effetti è stato un anno produttivo per la provincia di Cosenza. Abbiamo tanti atleti che si sono distinti, tante società che sono sianate che si sono affermate ancora di più quindi devo dire che per il CONI e per lo sport cosentino è una grande soddisfazione. Una provincia di Cosenza salita agli onori della cronaca sportiva internazionale grazie ad atleti del calibro del tuffatore Giovanni Tocci il quale ha ben figurato alle Olimpiadi di Rio 2016. Non solo Tocci, ci sono stati anche altri atleti in particolare c'è un atleta che è stata alle Paralimpiedi Geni Narcisi che è originaria di Luzzi, abbiamo avuto la Francesca Pomeri che fa parte della pallonuoto Cosenza insomma le Olimpiadi di Rio hanno parlato anche un po' cosentino e questa è una grande soddisfazione doppia per noi. Ritorniamo nel Reggino a Cittanova dove si respira una magica atmosfera con il presepe vivente. Attenzione ai particolari e fedele ricostruzione delle scene principali del presepe tradizionale con al centro la sacra famiglia di Nazareth e poi scene di vita quotidiane dalla laboriosità dei pastori alla dignitosa vita contadina fino agli antichi mestieri fabbri, falegnami, vasai e tessitrici lungo un percorso che riporta il visitatore indietro nel tempo. E tutto questo e non solo il presepe vivente organizzata a Cittanova dall'Associazione Culturale San Pietro a lungo ed impegnativo il lavoro svolto con tanta voglia di far emergere il proprio territorio trasmettere ai più giovani partendo dai bambini il valore delle tradizioni ma soprattutto il valore della solidarietà. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell'Associazione San Pietro Vincenzo Adangeli. La prima cosa che mi viene da dire è ringraziare tutta la nostra comunità a Contrada San Pietro, ringraziare l'amministrazione comunale e la BCC di Cittanova il Credito Cooperativo che insieme a noi hanno collaborato alla realizzazione di questo fantastico evento. Allora la nostra associazione è quello che si propone di fare che ormai è un evento consolidato da anni perché comunque nasce nel 2001 con l'idea di un insegnante del nostro plesso scolastico di San Pietro che poi negli anni e soprattutto dal 2007 in poi è stata affiancata dalla nostra associazione e di anno in anno diciamo ci siamo sempre premurati di realizzare al meglio quello che è di riproporre soprattutto al meglio quello che è la storia, la nostra storia, comunque la nascita di Gesù. E per questa edizione è davvero tutto, io vi aspetto alle 18 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.